www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Meeting delle misericordie zonali della provincia di Caltanessetta Enna nella giornata del 12 settembre 2015 a Mussomeli Corre in rete 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 Sacrificare un po' della propria vita, donare una parte di se stessi senza nulla chiedere è amore. Questa è la missione di noi volontari e nelle ambulanze, nelle corsie degli ospedali, per la strada, nelle case, ovunque ci sia bisogno di noi siamo presenti, pronti a tendere la mano, a dire una parola di conforto, ad ascoltare, a portare un sorriso, una speranza. A donare un attimo di amore. Non cancelliamo la sofferenza, ma la alleviamo. Non cancelliamo la solitudine, ma portiamo solidarietà. Non cancelliamo la tristezza, ma portiamo un sorriso. Contividiamo con chi ha bisogno la sua vita. E io, con il cuore pieno di gioia, che possiamo dire grazie, Signore, per averci dato la possibilità di possedere un po' di tempo. Grazie, Signore, per averci fatto incontrare per strada la sofferenza. Grazie, Signore, per averci manifestato attraverso gli altri il tuo volto. Grazie, Signore, per averci fatto conoscere l'amore. E tu, Maria Santissima dei miracoli, mettici al riparo dalle insidie del mondo sotto il tuo materno manto. Signore, ti rodiamo e ti ringraziamo per tutto il bene che ci vuole, per la capacità che ci dai, per le risorse che ci permette di avere, per le opere umane di cui siamo capaci, per le possibilità che ci permette di scoprire, per l'amore, la pazienza e la cura che ci doni quando accudiamo il prossimo. Per tutto questo, noi ti siamo gravi, ti ringraziamo, ti preghiamo e nel tuo santo nome operiamo. Madonna dei miracoli, nel tuo cuore deponiamo le nostre ansie e le nostre preoccupazioni. Dacci il coraggio, l'entusiasmo di proseguire nella strada che profuma di solidarietà e che ci conduca verso i sentieri che parlano il linguaggio dell'amore. Amo. Applausi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.